Il lavoro non è più un posto, ma un percorso che ha a che fare con la propria posizione umana e nel lavoro oggi c'è una grande battaglia tra chi ritiene che le qualità umane non c'entrano e bisogna semplicemente appartenere a un'azienda in modo impersonale, un po' come Michael Douglas nel film su Wall Street, oppure che queste qualità umane con un cognitive skill, character sia fondamentale. Da questo punto di vista molti giovani si chiedono tante cose sul lavoro, che cosa ha a che fare con la vita, come si può conciliare con la famiglia, cosa vuol dire far carriera, che cosa si deve tenere presente, qual è il segreto per costruire nella precarietà, questo è il cuore di questa mostra, questa interrogazione sul lavoro in un work in progress che è domande fatte da loro, ma che potrebbero essere nostre.